Nulla è impossibile se ti fidi del Signor Nulla è impossibile se tu credi a Lui con il cuore Io ti chiede e c'è qualcosa che sia un po' difficile per me Sulla parola forzati, confida nel Signor Con Dio è impossibile se tutto è possibile Sulla è impossibile se ti fidi del Signor Guarda gli occhi tuoi e guarda il grande cielo Gli uccelli che tolano lì Non particano nel fatto di un lavoro Ma il Signore di tutti i miei figli Così ma io e le sue mani Si rispetta la vita mia Mi certo sarà che i miei figli E lì soddisfarà Gli uccelli che tolano lì Gli uccelli che tolano lì Gli uccelli che tolano lì Così ma io e le sue mani Si rispetta la vita mia Mi certo sarà che i miei figli Gli uccelli che tolano lì 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 Ogni cosa è possibile al Signore Noi gli vogliamo dire il nostro grazie Le nostre riunioni hanno diverse componenti Canto comunitario Preghiere comunitarie Racconti di ciò che Dio fa per il nostro cuore Per la nostra vita Donandoci la salvezza in Cristo Perdonando i nostri errori I nostri peccati Questa volta sarà Umberto a raccontarci La storia della sua salvezza La sua conversione Gloria a Dio Ringrazio il Signore Per questa opportunità che mi dà Di raccontare quello che Lui ha fatto nella mia vita Non vi nascondo che Non è la prima volta che racconto la mia testimonianza Ma questa sera Mi sento particolarmente emozionato E quando mi palpita il cuore E sento forte la presenza di Dio nella mia vita Credo fermamente che quello che sto per dire Può servire a qualcuno in questa sala Especialmente a qualcuno che ci sta ascoltando Attraverso la diretta Io mi chiamo Umberto Come vi è stato detto Ho 37 anni E sono 15 anni che ho avuto una personale esperienza con Dio Sono nato in un quartiere popolare di Napoli E crescendo in questo quartiere La mia vita a un certo punto Ha subito una deviazione Io sono cresciuto Andando a scuola I miei genitori Hanno cercato di tenermi in un guscio Fino all'età di 12-13 anni Mandandomi a scuola Io uscivo Entravo a scuola alle 8 di mattina Uscivo dalla scuola alle 5 del pomeriggio Perché la mia famiglia cercava in tutti i modi Di tenermi a sicuro Di tenermi impegnato Quando finiva la scuola Il mese di giugno Immediatamente La mia famiglia cercava di mandarmi a lavorare Sempre per non tenermi per strada Per non farmi fare brutte esperienze Per non farmi conoscere persone poco raccomandabili E ho cominciato presto anche a lavorare E proprio un giorno mentre lavoravo Ho avuto un'esperienza molto particolare nella mia vita Mentre facevo una commissione per il mio datore di lavoro Mentre camminavo proprio davanti a me Un uomo fu gabinzato ad una gamba Fu sparato in una gamba E quell'episodio Quell'episodio Rimase molto impresso nella mia vita Cominciai a rendermi conto del quartiere dove abitavo Cominciai a rendermi conto della vita che si viveva in quel quartiere E proprio in quel momento ricordo Che il mio cuore ebbe come una ribellione Volevo fare di tutto per difendermi da quelle cose che avevo visto Fino all'età di 12-13 anni Mi sono state fatte delle proposte illecite All'età di 12-13 anni già mi venivano offerte delle proposte Per farmi guadagnare soldi facili Ma io vi dico la verità Fino a quel momento il mio sogno era di diventare un calciatore Il mio sogno era di giocare a pallone Ma una grave malattia respiratoria me l'ha impedito Anche giocando bene Avendo delle caratteristiche Questa malattia me lo impediva Allora quando ho capito che non era possibile Ho cominciato allora a pensare al mondo del lavoro E volevo realizzarmi E cominciai a decidere seriamente quello che volevo fare nella mia vita Cominciai a lavorare E cominciavo a imparare il mestiere che desideravo fare In cui desideravo realizzarmi Ma queste proposte Queste proposte venivano continuamente ad affacciarsi nella mia vita All'età di 15-16 anni sotto oppressione ho cominciato a mollare Ed ho cominciato a usare delle cose A fare dei favori a persone poco raccomandabili Per avere in cambio delle cose Che mi facevano, secondo il mio punto di vista Stare bene, spensierato E usavo sostanze stupefacenti Usavo droghe che costavano anche molto Ma mi venivano a bussare fino a casa mia Dicendomi scendi Perché è tutto gratis Non devi pagare nulla E tutte le sere, anche lavorando Anche realizzandomi nel mio lavoro Anche avendo una vita apparentemente Anche nel mio quartiere Una vita sana Di un ragazzo che lavorava Di un bravo ragazzo Io la sera cominciavo a vivere un'altra vita Avevo una doppia vita Di giorno un bravo ragazzo Ma di sera cominciavo a fare cose Che un ragazzo non dovrebbe mai fare Ho frequentato delle persone Ho sfiorato il carcere Ho sfiorato anche degli aguati cammorristici Frequentando alcune persone poco raccomandabili Stando insieme a loro A volte la mia vita veramente si è trovata in pericolo E tutte queste cose Tutte queste esperienze negative Tutte queste cose che facevo Che non dovevo fare Pian piano, pian piano Hanno svuotato completamente la mia vita Ricordo che tutto quello che faceva Non mi soddisfava Non mi mancava il denaro Non mi mancavano le belle cose Non mi mancava la bella vita Ma tutto quello che faceva Rimaneva sempre un vuoto nella mia vita E fin quando una sera All'età di 21 anni Sono rimasto Insieme a degli amici Fino alle 5 di mattino Chiuso in un garage E abbiamo usato di tutto E quella mattina Le 5 di mattina Per la prima volta nella mia vita Ebbi un attacco di panico E una forte crisi d'ansia Mi trovai veramente A faccia a faccia con la morte Credevo fermamente che quella sera morivo Mi accompagnarono gli stessi amici Che stavano con me Mi accompagnarono all'ospedale Ma da quella sera All'età di 21 anni Io cominciai a soffrire di questa patologia Attacchi di panico E crisi d'ansia Mi ricordo che mi svegliavo a volte di notte Abitando vicino a un ospedale A volte scendevo in pigiama da casa mia Preso da questi attacchi di panico Dalle crisi d'ansia che mi venivano Scendevo E mi ricordo che mia madre e mio padre Io davanti, loro dietro Correvo in ospedale Perché veramente vedevo la morte in faccia E non riuscivo a vedere più il mio domani Ricordo che mi guardavo allo specchio E dicevo a me stesso come è possibile Che la mia vita si è ridotta in questo stato Non volevo più vivere Ho provato di tutto per uscire da quella condizione Gli affetti Avevo degli affetti Avevo i miei genitori Ho provato ad andare dai medici Ma fu proprio un medico Che un giorno In base a delle parole che mi disse Mise un pensiero divino nel mio cuore Un giorno andando da un medico Sotto mia insistenza Che volevo la soluzione al mio problema Gli volevo tirare dalla bocca le parole Per farmi uscire da quella situazione Lui mi voleva dare una cura Che io già facevo Perché prendevo delle gocce di calmanti Le prendevo anche spesso Ogni due o tre ore Prendevo 30 o 40 gocce di calmante Perché non riusciva il mio cuore A stare tranquillo Ma lui sotto mia insistenza Un giorno mi disse una cosa Mi disse Guarda che per l'ansia non c'è cura Perché è l'anima che si ammala Vi dico la verità Che uscì da quello studio Molto peggiorato Cominciai a credere fermamente Che per la mia vita Non c'era più speranza Perché se non c'era una cura Una guarigione Avevo cominciato a credere Che dovevo convivere tutta la vita Con quella mia patologia E questo non l'accettavo Un ragazzo molto ambizioso come me Un ragazzo che desiderava realizzarsi Che lo stava facendo La cui vita andava a gonfie vele Vedendo che ero caduto in quella situazione Non riuscivo ad accettarlo E pensai seriamente al suicidio Una sera però Avevo una sorella convertita in casa Già credeva in Dio Già aveva realizzato l'Evangelo E parecchie volte mi aveva detto Leggi la Bibbia Perché nella Bibbia ci sono le risposte Nella Bibbia c'è la guarigione Nella Bibbia c'è la guarigione E mi ripeteva queste cose A cui io non credevo Ma quella sera prima di prendere E di fare quell'atto Che non dovevo fare Avevo pensato ormai Di farla finita Ma fu proprio quella sera Prima di fare questa cosa Che mi misi in ginocchio Per la prima volta in vita mia Mai pregato Dio Mai aperto una Bibbia Sempre stato indifferente Alle cose di Dio Fino all'età di 22 anni Perché ormai erano 7-8 mesi Che mi trovavo in quella situazione Ma una sera mi inginocchiai Presi questo libro Che è la Bibbia Perché legge il nostro cuore Tutti i libri si leggono Ma questo è un libro Che sa leggere La profondità del nostro cuore E la profondità Delle nostre circostanze Mi misi in ginocchio E feci una preghiera Dissi Signore Se tu veramente esisti E questa sera guarisci la mia vita Io ti prometto Che ti darò il resto Dei miei giorni Mentre pregavo Presi la Bibbia Per la prima volta La spaccai Non sapevo come leggerla Non avevo dimestichezza Con questo libro La spaccai E i miei occhi caddero Sull'Evangelo di Matteo A capitolo 6 Al verso 25 Che dice Perciò vi dico Non siate in ansia Per la vostra vita Di che cosa mangerete E di che cosa berrete Né per il vostro corpo Di che vi vestirete Non è la vita più del nutrimento E il corpo più del vestito Guardate gli uccelli del cielo Non seminano Non mietitano Non raccolgono in granai E il Padre vostro celeste li nutre Non valete voi molto più di loro E chi di voi Può con la sua preoccupazione Aggiungere un'ora sola Alla durata della sua vita E poi dice Cercate prima il regno E la giustizia di Dio E tutte queste cose Vi saranno date in più Non siate dunque in ansia Per il domani Perché il domani Si preoccuperà Di se stesso Basta ciascun giorno Il suo affanno Mentre leggevo questi versi Una profonda pace Scese nel mio cuore Dio mi guarì Quella sera Mi sentivo bene Avevo una pace profonda Nel mio cuore Mi sforzavo Per farmi venire Un attacco di panico Una crisi d'ansia Non riuscivo a credere A me stesso Dicevo impossibile Che Dio questa sera Ha ascoltato La mia preghiera Eppure Dio lo fece Dio non rimase indifferente A quel grido Ma Dio in quell'istante Guarì la mia vita Io non riuscivo A vedere il domani Ma Dio ha messo Il pensiero dell'eternità Nella mia vita Oggi riesco a credere Fermamente nel mio cuore Che dopo questa vita Di là del sole Io avrò una vita eterna Con Gesù E questi sono i miracoli Che fa Gesù Quella sera Dio mi guarì Ma la mia vita Non era ancora salvata Dopo qualche giorno Che volevo ritornare Alla mia vita Stando bene Credevo Che questa vita Non faceva per me Non era possibile Che io riuscivo A leggere la Bibbia Tutti i giorni Ad andare in chiesa Tre, quattro volte Alla settimana Come vedevo fare mia sorella Dicevo impossibile Non ce la potrò mai fare Questa vita non è per me Ti ringrazio Signore Che mi hai guarito Ma io non sono fatto Per questa vita E volevo tornare A mia vergogna A fare la mia vita di prima Perché noi siamo orgogliosi Duri a volte Ma un giorno nel mio cuore Dopo tre, quattro giorni Ascoltai una voce forte Che mi diceva Io ti ho guarito Adesso mi devi dare la tua vita Dopo qualche giorno Sono entrato in questa chiesa Ero seduto in uno di questi banchi Per la prima volta Per la prima volta Mi inginocchiai E ho provato dolore Ho trovato pentimento Per tutti i miei peccati Che avevo fatto Vedevo davanti agli occhi Non è possibile Qualsiasi situazione Stai vivendo Qualsiasi circostanza Stai attraversando Dio è colui Che può fare Un potente miracolo Nella tua vita L'ha fatto per me E lo può fare per te Perché egli è un Dio fedele e buono Che vuole fare del bene Alla nostra vita Dio ci benedica Quando Dio Si incontra con qualcuno Lo trasforma E lo cambia Niente può più restare Come era prima E la parola di Dio Dice che se uno è in Cristo È una nuova creatura Le cose vecchie Sono passate Ed ecco tutto È diventato nuovo Siamo così felici Di poterci rivolgere Alla parola di Dio Vi invitiamo a seguire La lettura In Matteo 17 24 Matteo 17 24 Quando furono giunti A Capernaum Quelli che riscotevano Le didramme Si avvicinarono a Pietro E dissero Il vostro maestro Non paga le didramme? Egli rispose Sì Quando fu entrato in casa Gesù lo prevenne E gli disse Che te ne pare Simone I re della terra Da chi prendono I tributi o l'imposta? Dai loro figli O dagli stranieri? Dagli stranieri Rispose Pietro Gesù gli disse E i figli Dunque Ne sono esenti Ma Per non scandalizzarli Va al mare Getta l'amo E prendi il primo pesce Che verrà su Aprigli la bocca Troverai uno statere Prendilo E dallo loro Per me E per te Possiamo sedere E Un bel soggetto Realizzare E scoprire Che Gesù si interessa Di ogni sfera Della nostra vita Getta l'amo E prendi Il primo Pesce Nei miracoli Di Cristo Sia Pietro Che il mar Di Galilea Hanno avuto Un ruolo Importante Almeno Otto Miracoli Di Cristo Riguardano Anche L'apostolo Pietro E almeno Sei Miracoli Di Cristo Riguardano Il mare Della Galilea Inoltre In almeno Cinque Di questi Miracoli Furono Coinvolti Sia L'apostolo Pietro Sia il mare Di Galilea Così sono Ambienti Familiari Ambienti Che si Presentano E ripresentano Nella nostra Lettura E meditazione Degli Evangeli Questo Miracolo Riguarda Il pagamento Delle Didramme Non era Una tassa Civile Statale Dovuta All'impero Romano Ma una Tassa Religiosa Ed Essendo Un ex Pubblicano Cioè Esattore Delle tasse Per i Romani Matteo È rimasto Colpito Dal fatto Ed è Per questo Che è L'unico Evangelista A riportare L'episodio Anche se Non riguardava Le tasse Il tipo Il genere Di tasse Che riscuoteva Lui Era una Tassa Religiosa A favore Del tempio E la pagavano Perciò Solo gli Ebrei Mezzo Siclo Era stato Previsto Dalla Legge Di Mosè Che fosse Pagato Da ogni Maschio Dai Vent'anni In su All'inizio Fu Utilizzato Per Le spese Del Tabernacolo Questa Tenda Che si Muoveva Con Israele Che poi Fu Messa Fissa E in Seguito Con Il Tempio Di Salomone Fu Utilizzata Per L'opera Del Tempio Ma Dopo La Cattività Babilonese Questa Divenne Un'offerta Annuale E fu Osservata Fino Anche Ai Tempi Di Cristo Come Contributo Per Il Mantenimento Del Tempio Stesso Getta L'amo E Prendi Il Primo Pesce Gli Disse Gesù All'Apostolo Pietro Che S'è Trovato Un po' Imbarazzato Sulla Risposta Che Deve Fornire E tra Poco Vedremo Perché S'è Trovato Imbarazzato Perché S'è Trovato In Difficoltà Getta L'amo E Prende Il Primo Pesce Ci Parla Dell'interrogativo Dei Riscuotitori Prima Del Miracolo Queste Persone Che Riscuotevano Chiesero L'abbiamo Letto Nel Verso 24 Il Vostro Maestro Non Paga Egli Le Didramme E' Una Domanda Che Era Dovuta C'è Chi Pensa Che Fu Posta In Senso Malizioso C'è Chi Crede Che Invece Era La Classica Domanda Fatta Con Rispetto Paga Le Didramme Gliele Dobbiamo Chiedere Siete Informati Tu Sai Pietro Se Egli Lo Fa Perché La Domanda Se Ha Un Aspetto Positivo Per Non Andare A Insistere Direttamente Col Maestro Ma Molti Dei Studiosi della Bibbia Ritengono Che La Domanda Avesse Delle Origini Non Tanto Limpide E Sincere Perché Perché Le guide Religiose A quel Tempo Non Pagavano Questa Tassa E Dovete Sapere Che La Gente Considerava Gesù Un Rabbi Un Maestro Così Facendogli La Domanda Paga Vogliono Sapere Se Gesù Si Sente O Non Si Sente Una Guida Religiosa Vogliono Sapere Se Evade O Non Evade Per L'imantenimento Del Tempio Vogliono Sapere Ti Poni Gesù O Non Ti Poni Alla Stessa Altezza Dei Rabbini Diversi Che Ci Sono In Israele E Non Pagano Comunque Avesse Risposto L'apostolo Pietro Sarebbe Stato Un Problema Gesù Se La Caverà Molto Meglio Quando Gli Chiederanno Non Di Una Tassa Religiosa Ma Statale E Giusto Pagare Le Tasse A Cesare E Lui Rispose Con La Sua Grande Sapienza E Saggezza Ma Gesù E Gesù Che Bisogna Dare A Cesare Quee Di Cesare A Dio Quello Che Di Dio Questa Però È Una Tassa Religiosa Se Si Espone Negativamente E Pietro Dice Non Paga Sa Di Mettere Gesù In Cattiva Luce Sa Che Accuseranno Il Maestro Di Non Rispettare Il Sistema D'adorazione Del Tempio Che È Vero Era Anche In Relazione A Sacerdoti Corrotti E Non Fedeli Ma C'era Un Sistema D'adorazione Stabilito Da Dio Previsto Da Dio E Gesù Non Poteva Andare Contro Quel Sistema Verrà Poi Il Giorno In cui I Veri Adoratori Adoreranno Il Dio In Spirito E Verità Non Ci sarà Più Bisogno Di Religiosi Con Vestiti Speciali Dai Colori Diversi A Secondo Di Ciò Che Officiano Di Ciò Che Servono E Che Fanno Come Indicazioni Di Un Futuro Adesso Il Futuro Con Gesù Era Arrivato E Quindi Da Allora In Poi Niente Più Divise Sacerdotali Niente Più Colori Particolari Per Le Cerimonie Da Allora In Poi Gesù Spiegò Per Di Più A Una Donna Che Viveva Nel Peccato E Questo Causava Sempre Dello Scompiglio Nei Benpensanti Israeliti Che Lora Era Venuta Affinché Né Nel Monte Dove Si Trovavano Né In Altri Monti Si Cercasse Il Signore Ma Dovunque Delle Persone L'avrebbero Cercato In Spirito E Verità Dio Si Sarebbe Fatto Trovare Da Loro Garantì Il Maestro E Una Domanda Che Vuole Quindi Insinuare Gesù Paga E Se Paga Allora Non Si Sente Una Guida Spirituale Religiosa Perché Le Masse Gli Corrono Dietro E Se Non Paga Allora È Un Ribelle Allora È Un Evasore Allora Non Rispetta Il Sistema Di Adorazione Che Dio Ha Stabilito Venga Celebrato Nel Tempio Come Vedete I cristiani Dobbiamo Essere Sempre Persone Molto Sagge E Siccome La Sapienza Non Viene Da Noi Chiediamola Dio Dice L'Apostolo Giacomo Che Non Ne Fa Nessun Rifiuto A Nessuno Ma La Dona A Chiunque Chiede E Vogliamo Chiedere Senza Mettere In Dubbio Sapendo Che Ogni Sapienza Viene Dal Cielo Ed E Un Dono Di Dio Per Noi Non Appena Sta Perdendo Prestigio Non Appena Erode E le Autorità Religiose Cominciano A Stagli Addosso Il Rispetto Per Gesù Comincia A Traballare A Venire Meno Sono Le Prove Generali Di Ciò Che Poi Accadrà Con L'arresto La Flagellazione La Condanna E Poi La Morte Ma Non Finisce Qua Perché Gesù È Morto E C'è Rimasto Solo Tre Giorni Là Dentro Alla Tomba Al Terzo Giorno È Resuscitato E Ora Alla Destra Del Padre E Intercede Per Noi Siamo D'accordo Gesù Doveva Dimostrare Pietro Si è lasciato Guidare Da Questo Principio Ispiratore Che Non Era Un Ribelle Alla Legge Di Mosè Dice L'Apostolo Paolo Ai Galati In Una Epistola Ma Quando Giunse La Pienezza Del Tempo Dio Mandò Suo Figlio Nato Di Donna Nato Sotto La Legge Dunque Gesù Era Nato Sotto La Legge Di Mosè E Non Poteva Essere Irrispettoso Di Questa Legge Che Egli Aveva Trovato Nel Posto Dove Era Nato E Stava Vivendo Sotto Questa Legge I Genitori Avevano Pagato Per Lui Quando Ebbe 40 Giorni Sotto Questa Legge Adesso Lui Doveva Pagare E Doveva Pagare Qualcosa In Più Per La Verità Non Pagò Solo Quella Piccola Offertina Ma Gesù Pagò Per Il Suo Riscatto Da Servo La Bibbia Dice Spogliò Se stesso Prendendo Forma Di Servo Divenendo Simile Agli Uomini E Trovato Esteriormente Come Un Uomo Umiliò Se stesso Facendo Subbediente Fino Alla Morte E Alla Morte Della Croce L'interrogativo Dei Riscuotitori Prima Del Miracolo Ora Vogliamo Vedere Dopo La Risposta Di Pietro Paga Il Tuo Maestro Risposta Verso 25 Sì Non Si Lascia Prendere La Mano Dal Discorso Sa Che Le Polemiche Possono Anche Far Fare Degli Errori Verbali Non Vuole Mettere Arrepentaglio A Rischio Il Maestro Per Colpa Sua E Da Un Semplice Sì Come A Solito Non Si Ferma A Riflettere Dice Che Sicuramente Il Maestro Sa Che Deve Pagare Purtroppo Spesso Pietro Ha Parlato Senza Riflettere Lasciandosi Andare A Facili Conclusioni Faceva Parte Del Suo Essere Del Suo Temperamento Chi È Fatto Come Lui Arriva Prima Degli Altri Alle Conquiste Spirituali Ma Purtroppo Arriva Anche Prima Degli Altri A Sbagliare Vogliamo Per Questo Chiedere Signore Dacci Sapienza Nel Parlare La Prontezza Con cui Rispose Suggerisce Almeno Due Atteggiamenti Non vuole Mettere In Difficoltà Gesù Ma Nello Stesso Tempo Non vuole Neanche Dissonorarlo Facendo Sapere Agli Altri Che Gesù Non Dovrebbe Pagare Perché Lui È Una Guida Di Israele Ma Pietro Dovrà Imparare Che Gesù Era Molto Più Che Un Rabbi Era Molto Più Che Uno Dei Rabbini Del Suo Tempo E E Questa Lezione Pietro La Imparerà Dopo Aver Detto Il Suo Si Si Il Maestro Paga Entrando Di Nuovo In Casa La Bibbia Dice Ma Gesù Lo Prevenne Vuol Dire Che Gesù Sa Quel Che Lui Ha Detto Vuol Dire Che Gesù Sa Quel Che Lui Ha Fatto Dirai Salmista Nel Salmo 139 Se Salgo In cielo Tu Vi Sei Sulla Sottoterra Anche Dove Fuggirò Lontano Dal Tuo Spirito Non C'è Nessun Posto Dove Dio Non Ha I Suoi Occhi Su Di Noi Egli Ci Segue Costantemente Ininterrottamente Fedelmente E Sta Sempre Con Noi Per Proteggerci Ma Anche Per Seguirci Purtroppo Quando Facciamo I Nostri Errori Il Tempio Non Doveva Non Poteva Essere Trascurato Il Era Stato Stabilito Dio Nella Legge Di Mosè E Dunque Era Importante Osservare La Cosa E Pietro Non Vuole Mettere In Difficoltà Gesù Ma C'è Un'altra Realtà E Da Poco E Solo Da Poco Nello Stesso Capitolo 17 In Cui Abbiamo Letto Il Testo Che Gesù Al Verso 22 Gli Ha Detto Il Figlio Dell'uomo Sta Per Essere Dato Nelle Mani Degli Uomini Verso 23 Essi Lo Uccideranno E Il Terzo Giorno Risusciterà Ed Essi Ne Furono Molto Rattristati E Dunque C'era Molto Più Che Un Si E Un No Spontaneo Da Dare C'era Mettere In Difficoltà Ancora Di Più Gesù E Presentarlo Come Un Irrispettoso O Come Uno Che Non Apprezzava Il Ruolo Di Guida Religiosa Il Riconoscimento Universalmente Dato Gli Nella Sua Terra Di Essere Un Uomo Potente In Opere E In Parole Gettalamo Pietro Gli Dice Gesù Quando Torna Dentro E Prendi Il Primo Pesce Ma Questo Viene Preceduto Da Un Ammaestramento Da Un Insegnamento Da Oggi Diremmo Uno Studio Biblico Breve Breve E L'ammaestramento È Una Dimostrazione Che Gesù È Dio Infatti Leggiamo Al Verso 25 Quando Fu Entrato In Casa Gesù Lo Prevenne Gli Disse Che Te Ne Pare Simone I Re Della Terra Prendono I Tributi E L'imposta Dai Loro Figli O Dagli Stranieri Gesù Lo Prevenne Parlo Dopo Che Questi Parlò Con i Rispuotitori E Parlo Prima Che Questi Dicesse Qualcosa Gesù Ha Sempre Il Momento Giusto Quando Deve Parlare Guardate La Differenza Tra Lui E Noi Noi Dobbiamo Esitare Dipendere Domandare Che Farò Signore Come Risponderò E Invece Lui Ha Sempre Pronto Il Modo Di Rispondere La Risposta Stessa Lui Conosce Tutte Le Nostre Azioni Parole Pensieri E Nulla Può Essergli Celato E Perciò Che Di Incoraggiamento Per I Fedeli E Di Avvertimento Per Gli Infedeli Ma L'ammaestramento Prima Del Miracolo Mise Anche La Tassa Nella Giusta Prospettiva La Risposta Di Pietro Alla Domanda Chi Pagano I Figli Dei Re O Gli Stranieri E Gli Stranieri E Allora Gesù Disse Dunque I Figli Ne Sono Esenti Quindi Questa Risposta Significa Che Sta Insegnando A Pietro Che Non Era Tenuto A Pagare Il Tributo E Per Questo Che Parlò Di Un Re Tassa La Sua Famiglia O Tassa I Suddi Degli Stranieri Gesù Non Doveva Pagare In realtà Ma Non Tanto Perché Di Fatto Si Permetteva Che Non Pagassero Le Guide Religiose I Rabbini Gesù Non Doveva Pagare Perché Il Tempio Era La Casa Gesù Non Doveva Pagare Non Perché Era Una Guida Religiosa Ma Gesù Era Il Figlio Di Tio E Era Il Figlio Di Colui Del Quale Aveva Detto Buttando Fuori I Mercanti Dal Tempio Questa È La Casa Del Padre Mio E Voi Ne Avete Fatta Una Spelonca Di Ladroni Che Terribile Condanna Per Le Religiosità Sbagliate E Le Religioni Che terribile Condanna Per Chi Sfrutta La Religione Ad Uso Personale Gesù Ci sta Insegnando Qua Io Non Dovrei Pagare Perché Io Sono Il Figlio Del Mio Padre Celeste Che Ho Appena Lasciato Da Poco E Non Dovrei Pagare Per La Casa Di Mio Padre Perché Dovrei Pagare Per Il Mantenimento Di Cerimonie Di Sacerdoti Di Offerte Che Sono Solo Un'allusione A Me Un'ombra Dei Futuri Beni Di Me Di Ciò Che Io Sto Tra Pochissimo Per Se stesso In Sacrificio Per Il Riscatto Di Molti Mentre Però I Sacerdoti Erano Sacrificatori Ma Non Sacrifici Gesù Ha Identificato L'Ufficio E Ha Offerto Come Sacrificatore Essendo Sommo Sacerdote Dei Futuri Beni E Anche Come Sacrificio Perché Gesù Non Ha Offerto Uno Dei Tanti Animali Dell'Antico Testamento Descritti Dalla Legge Gesù Ha Offerto Se stesso E Ha Dato Se stesso In Sacrificio E Il Popolo Di Dio Dica Amen E Importante Che Questi Riscuotitori Che Non Conoscono Gesù Come Il Figlio Di Dio Debbano Quindi Non Essere Scandalizzati E Gesù Si Preoccupa Di Non Scandalizzare L'argomento È Molto Attuale Ci Deve Importare O No Di Chi Si Scandalizza La Mentalità Corrente È Che In Fin Dei Conti Basta Col Vecchiume Dobbiamo Rottamare Tutto ciò Che è Vecchio E Fare Tutto Nuovo Il Nuovo È Bello Il Veloce È Bello Questa È L'idea Corrente Della Società Questa È L'idea Corrente Della Nuova Politica Anche Della Nostra Nazione Non Sua 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 Vita Al Nostro Posto L'ammaestramento Prima del Miracolo Dimostrò L'opportunità Di pagare Verso 27 Per Non Scandalizzarli Allora Dobbiamo Preoccuparci Correndo Veloci O No Di chi Si scandalizza La Bibbia Dice Che Noi Non Dobbiamo Scandalizzare La Bibbia Dice Che Dobbiamo Fare Solo Ciò Che È Utile E Non Dobbiamo Molto Insistere Sui Nostri Tra Virgolette Diritti Paolo Spiegherà Ogni Cosa È Lecita Ma Non Ogni Cosa È Utile Non Possiamo Dire Per colpa Di questi Quattro Vecchi Della mia Chiesa Che Frequento Non Si Può Fare Questo Non Si Può Fare Quest'altro Non È Così Gesù Dice A Pietro Ma Per Non Scandalizzarli Va Getta Lamo Prendi Il primo Pesce Vi Troverai Del Danaro E Potrai Pagare La Tassa Religiosa Grazie Signore Di quanto Sei Buono Per Noi Grazie Che Hai Cura Di Noi Non Siamo Da Rottamare Quando Un giorno Avremo Un'età Molto Avanzata Se ci Arriveremo Per Grazia Di Dio Non Vivremo In Una Popolazione Cristiana In Una Chiesa Dove Si serve Il Signore Che Non Se ne Importerà Niente Di Noi Ma I Sentimenti Cristiani Ci Faranno Rispettare Il Nuovo E Il Vecchio Nell'equilibrio Sapendo Che Non Tutto Ciò Che Lecito È Opportuno Farlo E Sapendo Che Tutto Ciò Che Invece È Importante Farlo Noi Lo Faremo Perché Lo stesso Gesù Che Ha Detto Per Non Scandalizzarli Va E Paga E Anche Colui Che Poi Ha Affermato Di Essere Una Pietra Di Inciampo Una Pietra Di Inciampo Per Chi Non Vuole Saperne Di Riconoscerlo Matti Capitolo 4 Verso 12 Dice Che Gesù È Il Nome È Il Nome Al di Sopra È L'unico Nome È La Bibbia Precisa Che Gesù È Anche Con Questo Nome Prezioso Che Opera Miracoli La Pietra Angolare Il Capo Del Cantone A Lui Dobbiamo Onore E Gloria E Chi Lo Accetterà Non Si Scandalizzerà Di Lui Chi Lo Rifiuterà Sarà Condannato Per Sempre Per Non Scandalizzare Io Metto In Sio Un Sasso Di Inciampo E Una Pietra Di Scandalo Ma Chi Crede In Lui Disse L'Apostolo Paolo Non Sarà Deluso E Infatti Non Dobbiamo Insistere Sui Nostri Diritti Visto Che In Fin Dei Conti Non Era Una Cosa Negativa Visto Che In Particolare Serviva Per Il Sistema D'adorazione Del Tempo Occorre Molta Umiltà Diciamolo Per Non Reclamare I Nostri Diritti È Molto Più Semplice Dire Mi Spetta Ho ragione È più difficile cedere Per amore Della Immagine cristiana Della testimonianza cristiana Positiva Ma Attenzione Nessuno pensi che Gesù Nella sua Preoccupazione Di Non Scandalizzare Ci sta Insegnando Che Dobbiamo Fare Compromessi Col Male Noi Non Accetteremo Mai Di Compromettere O Non Compromettere La Chiesa Col Male Il Male È Il Male Il Bene È Il Bene E Dio È Solo Il Padre Del Bene Quando Non Si Tratta Di Andiamo Pure Incontro Alle Pubbliche Consuetudini Non Dobbiamo Inutilmente Offendere Gli Altri Ci Sono Gruppi Religiosi Che Vanno Veloce E Che Rivendicano Basta Il Vecchiume Adesso Vogliamo Avere Libertà Libertà Di Fare Quello Che Ci Pare Libertà Di Dire Quello Che Ci Piace Dire E Non Vogliamo Nessun Limite Ma Il Popolo Del Signore È Un Popolo Invece Che Ha Un Riguardo A Non Scandalizzare Gli Altri Il Popolo Del Signore È Un Popolo Che Sa Come Muoversi Nelle Vie Di Dio E C'è Una Terza Cosa Che Vogliamo Vedere Getta Lamo E Prendi Il Primo Pesce Ci Parla Della Ragione Del Miracolo Ordinando A Pietro Di Pagare Cristo Gli Indica Pure Come Fare Va A Mare Prendilo E Dallo Loro Per Me E Per Te Era Giusta La Somma Che Serviva Per Pagare Per Due Perché Gesù Non Appartiene A Quelli Che Dicono Vai E Paga Per Me E Tu Arrangiati Ma Gesù Si Preoccupa Di Noi Gesù Accura Del Suo Popolo Bene Detto Il Suo Nome Domanda Non Avevano Un Fondo Cassa Si Ce L'aveva Giuda Per Le Spese Comunitarie Di Tutti Quanti Ma Gesù Ci Ha Voluto Insegnare Che Lui Non Ha Voluto Usare Per Motivi Personal Quello Che Era Il Bene Di Tutti Quanti Gli Altri Dandoci Così Una Lezione E La Lezione La Vediamo Adesso Nel Carattere Del Miracolo Getta L'amo E Prendi Il Primo Pesce Ci Parla Dell' Economia Del Miracolo Dimostrò La Divinità Di Gesù E Cancellò Eventuali Dubbi Anche In Pietro Perché A Pietro E Detto Che Trova Dove Lo Trova E Quando Lo Trova E Poi Un Pesce Con In Bocca La Moneta Non Doveva Andare Incontro All'amo E L'amo Non Poteva Facilmente Prendere E Catturare La Bocca Ma Invece È Accaduto Perché A dirlo Era colui Che Aveva Detto Sì Alla Luce E La Luce Fu E Gesù Insieme Al Padre Allo Spirito Santo Dio Creatore Benedetto In Eter Vattene Al Mare Getta La Non Faceva In Modo Soprannaturale Ciò Che Poteva Essere Fatto In Modo Naturale Che Vuol Dire Ricordate La Storia Di Giona La Bibbia Dice Che Lo Inghiottì Un Grande Pesce L'avevano Gettata A mare Il mare Era in Tempesta L'uso Comune Di Allora Era Forse Le divinità Ce l'hanno Con Noi Prendono Giona Anche Su Sua Stessa Richiesa Lo Gettono A mare E le Acque Si Calmano E la Tempesta Si Seda Ma La Storia Continua Il Grande Pesce Lo Ospitò Lo Portò Fino Arriva Lo Vomitò Fuori E Giona Scampò La Sua Vita E Svolse Il Suo Ministero Profetico Questa Volta No Perché Tutto Ciò Che Nelle Nostre Umane Possibilità Noi Lo Dobbiamo Fare Non Possiamo Attendere Sempre Un Miracolo Senza Metterci La Nostra Parte Il Miracolo Accadde La Moneta C'era Ma Pietro Alzati Dai Banchi Della Chiesa Esci Fuori Va A mare Va A pescare Datti Da Fare E Io Ti Benedirò E Il Miracolo Accadrà Perché Se Dio E Dio Dei Miracoli I Cristiani Sono L'esempio Della Laboriosità E Dell'impegno Personale Nel Darsi Da Fare Per Il Signore Per La Propria Famiglia Per La Propria Chiesa E Per La Società Vattene Al Mar I Miracoli Non Contribuiscono A Incoraggiare La Pigrizia E In Questo Dimostrato Deità Di Gesù Procurare La Moneta Per Pagare E Umanità Di Gesù Pagare Il Tributo Essere Come Un Uomo Dio Fa Miracoli Ma Sicuramente Senza Obedire Ai Suoi Ordini I Miracoli Non Accadranno Vattene Al Mare Prendi Gettalamo Il Primo Pesce Che Verrà Sù Ci Avrà Il Danaro Tradotto Se Vogliamo Un Miracolo Dobbiamo Fare Quello Che Ci Comanda Il Signore Che Ci Comanda Il Signore In Questa Rignone Credi In Gesù E Sarai Salvato Lui Cambierà La Tua Vita Trasformerà La Tua Esistenza Che Ci Comanda Il Signore Abbi Fiducia Credi Che Per Le Su Lividure Siamo Stati Sanati E Le Lividure La Flagellazione Di Gesù Cristo Saranno La Base Per Chiedere La Ravvedetevi Ciascun Di Voi Si Ha Battezzato Nel Nome Di Gesù Per La Rimissione Dei Peccati E Voi Riceverete Il Dono Dello Spirito Santo Perché La Promessa È Fatta A voi I Vostri Figli A quanti Sono Lontani A quanti Signori Dio Nostro Ne Chiamerà Questo Ci Comanda Gesù Usa Il Nome Di Gesù Chiedi Nel Nome Di Gesù Alamo E Prendi Il Primo Pesce Ci Parla Dell'interrogativo Dei Rispuotitori Dell'ammaestramento Delle Ragioni E Del Carattere Del Miracolo Perché Il Nostro È L'I Dio Dei Miracoli Ci Alziamo All'impiede Adoriamo Insieme Il Signore Padre Ti vogliamo Lodare Per tutto Quello Che Ci Hai Donato Grazie Per La Tua Parola Ai Nostri Cuori Chiediamo Che Tu Possa Fare Dei Miracoli Per Tutti Quelli Che Hanno Ascoltato Questa Parola E Che La Sentiranno Ancora Domandiamo Che Tu Dia Pace Perdono Serenità Ogni Cuore Ogni Anima Grazie Perché Tu Sei Pronta A Farlo Domandiamo Tutto Nel Nome Di Gesù Benedetto In Eterno 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 Grazie a tutti.